Si chiamava Vincenzo Davide Tamburino, 55 anni, catanese, è l'ennesima vittima della strada stradale 417 Catania Gela. L'imprenditore ha perso la vita ieri, poco dopo le 11, quando per cause da accertare da parte della polizia stradale si è scontrato a bordo della sua Mercedes classe C che procedeva in direzione Caltagirone contro un tir della sua stessa azienda, la Ortogel, che viaggiava in direzione opposta. Una tremenda fatalità. L'impatto è stato violentissimo, l'uomo è morto sul colpo, il sinistro mortale si è registrato all'altezza del chilometro 31 in località di Mineo. Il mezzo pesante era partito da Caltagirone destinazione Germania, proprio nella città della ceramica Tamburino doveva recarsi. Aghiacciante la scena che si è presentata ai soccorritori, la vettura dell'imprenditore era ridotta ad un ammasso di lamiere con torte, difficili le operazioni per estrarre dall'abitacolo il corpo senza vita della vittima. Il conducente del tir è rimasto ferito in maniera lieve ed è incomprensibile, stato di shock. Sullo luogo si sono portati, oltre agli agenti della polizia stradale, anche la polizia di stato di Caltagirone, i carabinieri del comando Compagnia di Caltagirone e gli uomini ed i mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento calatino. Il traffico veicolare in entrambe le direzioni è rimasto bloccato per alcune ore ed è stato dirottato sulla vicina statale 385. Tamburino, persona stimata e benvoluta da tutti, era l'arigenza di una storica e produttiva azienda di succhi di frutta e concentrati di frutta con sedi a Caltagirone e a Belpasso.